Il fatto di rivederli a distanza di anni in quanto ti abbracciano, è bello. Nel momento in cui mi trovo ad allenarmi da solo in prima mattina non ci sono i miei compagni. Essendo io il campo, io il pallone, capisco quanto mi piace il calcio. A me ha portato grandissime soddisfazioni, ma è vero anche che ho fatto tantissimi sacrifici. È stata una grandissima scuola di vita sotto tutti i punti di vista. La mia esperienza sia nell'ambito dello sport sia nell'ambito dei bambini mi ha aiutato tantissimo. L'ho riscontrato fondamentalmente nel momento in cui mi sono insediato nel mondo del lavoro. Ti relazioni con generazioni diverse, con persone diverse e la volontà, la voglia di aiutarli e di assisterli ti gratifica. Poi nel futuro c'è il sogno di ognuno di noi, il sogno di crearsi una famiglia, il sogno di iniziare a regalare qualcosa anche a chi è parte di te stesso. Grazie a tutti! Grazie a tutti!